No, innanzitutto un carnevale eccezionale, con cari e stupendi, curati nei minimi particolari, pieni di movimento. C'è la satira politica, non manca, non manca, perché il carnevale si precisa, ogni scherzo vale e quindi chi più ne ha più ne metta. Giocando con le maschere sicuramente ci sarà da divertirsi perché la satira politica mai come in questo momento c'è bisogno di parlarne, perlomeno in maniera ironica. Qualche carro è uscito ma ne sono entrati di nuovi e innovativi. Sì, cinque cari non hanno potuto partecipare perché hanno sfilato l'anno scorso e quindi ho ritenuto opportuno di non farli sfilare e ho cercato altri cari nuovi, molto belli, movimentati, pieni di colori e in più con una partecipazione di maschere in costume da 150, da 180 personaggi per ogni carro. Quindi nell'insieme ci sono oltre 3.000 persone alla sfilata che operano nei carri, nei 22 carri che sfileranno attorno al centro storico della città di Treviso per poi essere premiati logicamente in piazza dei signori.